Le misure messe in campo dal governo contro l'inflazione sono una prima risposta importante. Sono state accolte molte delle nostre richieste, come la proroga del taglio delle accise sui carburanti e gli aiuti alle imprese contro i ricari delle materie prime. Ora bisogna andare avanti in questa direzione. Una delle nostre proposte è tagliare le tasse sulle bollette di luce e gas per tutto il 2022. Dobbiamo sostenere in maniera ancora più incisiva cittadini, famiglie e imprese.